Ballarò riparte come un orologio svizzero e insieme a lui un croz a cui le vacanze di Natale hanno fatto proprio bene. Tanti auguri di un felice anno nuovo e via si parte alla volta della satira perché nonostante il nostro paese stia diventando quasi normale, l'età dice che va tutto bene, saccomanni che caleranno le tasse, lo spread e basso. Giova riesce ancora a trovare gli estremi per un programma intelligente. Il primo bersaglio è Gasparri non a caso presente in studio che come un acquario non fa altro che arredare. Cosa ci fa qui? Berlusconi non la vuole più in tv e per la prima volta concordo con lui. Gasparri era assicurante come Bastianici alla mensa della Caritas. Scherza crozza. Gasparri in cassa, divertito. Dopo un saluto a Bersani è d'obbligo, tanti auguri di una felice guarigione e all'interpretazione meglio riuscita nella storia di Maurizio Crozza. È un mini sketch che ci ha riportato indietro nel tempo. Ti è andata male con le primarie, ma con i primari sei stato un leone. E poi, oh ragazzi, me la son vista brutta. Non è che se ti mettono un pappagallo nel letto diventi Jack Sparrow? Immancabile la cover di Renzi pronto a onorare il Natale come si deve, con la solita carrellata di parole che non servono a nulla, chiedendosi meravigliato chi si sia dimesso. Crozza chiude, 2014 ben inaugurato.